Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi.Non era ancora mai capitato, nuovo stranissimo caso all'interno dello spiato appartamento di Cinecittà e riguarda praticamente tutti i concorrenti del Grande Fratello 2023. Le confessioni sotto alle coperte in qualche anfratto sono state sostituiti da una specie di linguaggio in codice. Che cosa sta succedendo? Una lunga serie di telespettatori hanno cominciato a manifestare perplessità tramite Twitter e Instagram portando alla luce lo strano ed inedito conversare del cast del Grande Fratello 2023. È successo quando stavano discutendo di Beatrice Luzzi e del suo, momentaneo, abbandono, ma non solo. Che c'è dietro.Grande Fratello, roba in codice sulla situazione di Beatrice Succede ripetutamente da qualche giorno al Grande Fratello 2023 In salotto, nella stanza dal letto, nella sauna, giardino, salotto, cucina, insomma, ovunque si è palesato lo strano linguaggio, ideato dagli stessi concorrenti in gioco Ma perché? Naturalmente gli utenti più attenti stanno indagando sul tutto e sembra che il cast avrebbe scelto diverse parole in codice, per poter parlare di argomenti che sarebbero proibiti Per esempio, ieri Fiordaliso, Anita Olivieri e Rosicin stavano parlando della situazione di Beatrice Luzzi quando l'ultima ha cominciato a ripetere alle altre due giallo, forse, stavano entrando in un tema che gli autori non vogliono che tocchino. Che nella notte, quando la diretta è in stop, si siano accordati. Perla si stava esprimendo sulla stessa storia, con Giuseppe Garibaldi, ed ecco che lui l'ha fermata Che colore ti piace? Il giallo, la ripresa. Lo fanno da inizio reality, si autocensurano, sono d'accordo, oppure è il momento dell'esaurimento nervoso, beccati, è chiaro, per i temi tabù, ipotizzano dei fan sui social. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.